Il nuovo ingresso nel partito di Fratelli d'Italia e di recente la nomina di Giovanni Pinto come coordinatore degli enti territoriali. Questo ruolo che cosa rappresenta? Innanzitutto vorrei ringraziare gli amici di Fratelli d'Italia che mi hanno accolto con molto entusiasmo nel partito. Io ho detto in qualche intervista che abbiamo fatto recentemente che sono tornato a casa. Sì, sono tornato a casa. Con molta immodestia mi hanno intravisto in me la persona che poteva avere rapporti con tutte le amministrazioni e con gli enti locali. Io credo di poter dare un contributo alla crescita del partito e un contributo a tutto il centrodestra che vedo animato da grandi intenzioni, da grandi animosità e passione. Quali sono gli obiettivi che si prefigge? Il nostro obiettivo, inutile nasconderlo, è la preparazione alla prossima campagna elettorale. Non so se si andrà a scadenza, se succederà qualcosa prima. Vorrei ricordare chi ci ascolta che nel PNRR la Garfagna ha inserito per il sud 47 miliardi da spendere. I comuni dovrebbero avere le capacità, e non tutti ce le hanno, di avviare dei progetti di riqualificazione del territorio. Grandi progetti. Questo potrebbe essere uno di quelli. Di recente l'abbiamo vista impegnata per la questione del senso unico a Via Curtoli. Continuerà il suo interessamento per questa questione? Io ho inserito il problema senso unico a Via Curtoli nelle deleghe che mi sono state affidate in Fratelli d'Italia. Stiamo continuando la raccolta firme e una caterva di mamme che frequentano gli istituti e i palestri scolastici mi hanno contattato per avere un aiuto, perché ritengono sia ingiusto. Questo senso unico procurerà sicuramente a settembre, all'apertura delle scuole, grossissimi problemi di viabilità. Uno dei temi che io voglio affrontare in futuro è la sicurezza dei pedoni in città, non soltanto a Via Curtoli, perché ritengo che molte strade della città abbiano grossissimi problemi per quanto riguarda i marciapiedi. Non ultimo c'è il problema della raccolta rifiuti, che è diventata la nota dolente. Fratelli d'Italia guarda ovviamente alle prossime elezioni ma già con l'idea di un candidato sindaco. Mi sembra ancora prematuro parlare di candidati sindaci, sicuramente qualcuno già si muove, ma noi abbiamo creato un cartello di centrodestra con i partiti storici del centrodestra e con molte liste civiche che hanno aderito e sottoscritto un contratto con i partiti per affrontare insieme la prossima tornata elettorale. Noi le elezioni le vinceremo, questo è un dato certo.